Il Teramo riparte da Marcello Di Giuseppe e da Vincenzo Vivarini. La firma del prolungamento del contratto del direttore sportivo è arrivata, quella dell'allenatore arriverà. Dunque il primo dubbio legato alla guida tecnica e dell'area tecnica è stato risolto. Da ora il Teramo potrà lavorare sulla squadra che andrà a costruire. Intanto è stata scelta anche la sede del ritiro che sarà a Rivisondoli. Dopo l'esperienza dello scorso anno in Trentino, quest'anno la società ha deciso di restare in Abruzzo anche per venire incontro alle esigenze dei tifosi. Ma la domanda che proprio i sostenitori del Teramo si pongono riguarda i due attaccanti, Alfredo Donnarumma e Gianluca Lapadula. Che fine faranno? Difficile che Lapadula resti a Teramo. L'attaccante è di proprietà del Parma e rientra nella società ducale per fine prestito. Lapadula ha richieste anche in Serie A e questo lo porta sempre più lontano da Teramo. Anche il modo con cui ha salutato tutti domenica sera e le dichiarazioni che continua a rilasciare non fanno pensare a una seconda stagione con il bianco-rosso del diavolo sulle spalle. Per di più Lapadula piace anche al Pescara, ma qui ovviamente il discorso è differente perché resta da capire in quale categoria giocherà il Delfino la prossima stagione. Una cosa è chiara, l'attaccante torinese ha due possibilità al momento. Una Serie A italiana. Oppure l'esperienza in un campionato importante all'estero. Diversa la situazione di Alfredo Donnarumma. L'attaccante è federalmente del Pescara, ma la proprietà del cartellino è divisa tra Pescara e Teramo. Va sottolineato che il presidente Daniele Sebastiani non ha nessuna intenzione di fare uno sgarro all'amico Luciano Campitelli e a questo punto le possibilità che Donnarumma resti in bianco-rosso sono più concrete, a meno che non arrivi un'offerta importante da una società estera o di Serie A. E allora questo cambierebbe tutto, ma nelle casse del Teramo, che dovrà consentire alla cessione, entrerebbero soldi freschi per poter puntare i propri interessi su altri giocatori. Nel discorso del Pescara rientra anche per Rotta, che federalmente è del Teramo, ma il cartellino è anche del Pescara. Una volta sistemata la questione attaccanti, si procederà al resto. Per il momento ci sono contatti, qualche nome che circola, come Del Pinto, ma le operazioni di mercato importanti richiedono ancora del tempo, anche se il Teramo della B è già nella mente di Campitelli, di Giuseppe e Vivarini.